Mi chiamo Jacopo Levaolena, ho 28 anni, faccio casalinga. Ho deciso di sottopormi al mastoplastica riduttiva per sentirmi meglio con il mio corpo. Leggendo la rivista ho trovato una pubblicità della Clinique e così telefonicamente ho deciso di contattarli. I miei amici all'inizio non erano d'accordo con la mia decisione, però conoscendo bene il mio stato d'anima mi hanno sostenuto nella mia scelta di sottopormi ad un intervento di riduzione di seno. All'inizio ero un po' preoccupata di affrontare questo intervento, però già dalla prima visita alla Clinique, che sia medico o advisor, mi hanno messo subito il mio agio e i dubbi che avevo sono svaniti. Il giorno dell'intervento, quando sono arrivata alla Clinique, già c'era l'advisor che mi aspettava. Mi ha accompagnato nella stanzetta che era molto carina e di ospitale. Mi ha sostenuto in compagnia e poi dopo la visita di chirurgo ed anestesista mi hanno di nuovo confermato la grande professionalità della Clinique. Sono pronta per fare questo intervento e sono sicura che andrà tutto bene. Dopo l'intervento, ovviamente, sono stata un po' in riposo. L'attuale rapporto con il mio corpo è cambiato. Sono più positiva, riguardo il mio corpo, guardo più nello specchio, mi sento molto meglio. Oltretutto, anche nel rapporto con altre persone è cambiato. Mi sento più sicura, senza limiti. Sono stata veramente fortunata di conoscere la Clinique perché mi hanno aiutato a risolvere il mio problema. Ma vorrei ringraziare l'advisor che è stata sempre fin dall'inizio affiancata a me. Mi ha accompagnato anche in questo momento cruciale fino alla sala operatoria e mi ha aspettato alla fine dell'intervento. Questa cosa è stata molto carina e mi ha fatto tanto piacere. E personalmente vorrei ringraziare il dottor Antonio Criscuolo che, oltre ad essere un grande professionista, è una persona dotata di una grande umanità e sensibilità. Vuoi capire com'è la chirurgia estetica ti può cambiare la vita? Chiamami in privato al numero 3 40 0553 077 dalle ore 12 alle 14. Ti racconterò la mia storia.